Parlano di un disturbo della personalità, di tipo schizotipico, nel quale si è innestato un delirio, un qualcosa che lui ha percepito ma che non aveva aderenza con la realtà, che lo ha spinto in qualche modo a compiere quello che ha compiuto. Gli stessi periti hanno ritenuto che lui sia socialmente pericoloso in senso psichiatrico. È malato e socialmente pericoloso, per questo Giacomo Ciriello, il 19enne, che nel febbraio 2017 uccise con due colpi di fucile il padre Raffaele Alucignano, dovrà lasciare la casa famiglia di Prato, dove sta scontando i domiciliari. Questo quanto deciso dal gruppo del Tribunale di Arezzo Giampiero Borraccia, a seguito della richiesta della difesa del giovane di revocare gli arresti domiciliari e di applicare in via provvisoria la libertà vigilata. Quando viene attestata l'incapacità di intendere e di volere di un soggetto, nei confronti di costui non potrà più essere applicata una misura cautelare, vera e propria, come quella degli arresti domiciliari, perché è incompatibile. Quindi è onere del giudice di trovare una misura non più cautelare, ma una misura di sicurezza che ovviamente meglio di altre si confaccia al caso di specie. Per questo motivo ho fatto istanza in udienza per la concessione della libertà vigilata, ovviamente con l'obbligo di cura. Questo va da sé, in modo da consentire a Giacomo di intraprendere questo programma. Per il prossimo 21 marzo è prevista l'ultimo udienza del processo a carico del ragazzo che si celebra corrito abbreviato. Si potrebbe andare verso una soluzione per vizio di mente. Giacomo Ciriello, infatti, secondo i periti del GUP, era totalmente incapace di intendere e di volere nel momento del delitto. Si reso conto di ciò che ha fatto? Allora, diciamo che i primi timidi cenni di consapevolezza li sta manifestando adesso. Ma gli psichiatri mi hanno riferito che la parte difficile per lui, quella più dolorosa, e cioè quella che passa per la presa di coscienza piena del disvalore di quello che ha commesso, deve ancora arrivare.